In HDI Assicurazioni siamo particolarmente soddisfatti degli obiettivi raggiunti finora nel percorso sulla sostenibilità. Siamo partiti quando la sostenibilità era pannaggio di pochi investitori e ci stiamo ulteriormente strutturando per affrontare quelle che saranno le sfide future legate alla normativa europea. Mi riferisco in particolare alla direttiva per capire come essere degli investitori attivi all'interno delle società investite, alla tassonomia per capire come connotare correttamente in chiave ISG i nostri attuali e futuri prodotti finanziari e mi riferisco alla normativa sulla disclosure, cioè sulla trasparenza. Siamo chiamati ad agire nel migliore interesse dei nostri aderenti e ad integrare nelle nostre scelte e nelle nostre procedure non solo tutti i rischi finanziari ma tutti i pertinenti rischi di sostenibilità che potrebbero comportare un significativo o negativo impatto sul rendimento finanziario di un investimento, nonché valutare tali rischi su base continuativa. Ci stiamo lavorando e saremo pronti.